Il piano industriale di Amadori Il piano industriale di Amadori Il piano industriale di Amadori Il vertice a Roma al Mise Per i sindacati sono stati chiariti molti aspetti importanti Ma i lavoratori attendono il piano industriale E chiedono che tutti i posti di lavoro siano garantiti Sentiamo il servizio Dalle 11 alle 13 due ore per sgombrare il campo dalle polemiche e dalle incomprensioni E tornare a concentrarsi su un unico obiettivo Salvaguardare la filiera vicola molisana e tutelare tutti i lavoratori coinvolti nella vertenza GAM Ha cioè servito l'incontro di ieri a Roma al Mise Al Tavolo Castano per il Ministero Frattura, Veneziale, Lalli e Tocci per la Regione I rappresentanti nazionali dei sindacati di categoria e uomini dell'agricola vicentina Incontro che i sindacati giudicano positivamente Fai, Flai e Huila accolgono infatti con favore la dichiarazione del Presidente Frattura Nel ribadire l'appoggio esclusivo della Regione al gruppo Amadori Unico a giudicatario dei beni della filiera Decisivo il prossimo incontro In programma l'8 febbraio ci sarà l'occasione Scrivono i sindacati per conoscere con chiarezza il piano industriale del gruppo Cesenate Ma mercoledì non ci dovrebbe essere la sottoscrizione di alcun documento I lavoratori infatti vogliono che ogni passaggio che si decide a Roma venga approvato in assemblea Una richiesta legittima per chi da troppo tempo si sente sull'orlo del precipizio in barba Tuttavia ad ogni principio legato alla rappresentanza Che senso ha infatti mandare ai tavoli romani propri rappresentanti Se poi bisogna sempre tornare a discutere con il singolo Dunque mercoledì dopo aver visionato il piano industriale di agricola vicentina Le parti potrebbero definire un principio di accordo Che poi andrà sottoposto all'attenzione degli operai Forma a parte la priorità dei sindacati E dare risposte a tutti i 280 lavoratori Mettendo in campo soluzioni concrete e di prospettiva Centinaia di persone nella chiesa del sabato santo a Vasto Dove si sono celebrati i funerali di Italo De Lisa Il 21enne è ucciso a colpi di pistola a mercoledì scorso davanti al drink bar Il corteo si è mosso dall'ospedale Qui era allestita la camera ardente Dove in tanti hanno voluto rendere omaggio alla salma del giovane Intanto nel carcere di Torresinello davanti al GIP Caterina Salusti È cominciato l'interrogatorio di garanzia di Fabio Di Lello Accusato di avere ucciso De Lisa Il giovane che il 1 luglio 2016 provocò l'incidente Nel quale morì la moglie di Fabio Roberta Smargiassi L'accusa di omicidio volontario premeditato Sarà formulata dal sostituto procuratore Gabriella De Lucia Di Lello assistito dai legali Cerelle Andreoni Conoscerà le aggravanti che la procura di Vasto gli addebiterà Retata della polizia pescara nelle ultime 48 ore Nell'ambito di una operazione voluta dal questore Francesco Misiti Che ha coinvolto squadra mobile, volanti e unità cinofile E ha interessato le zone periferiche della città In manette fra gli altri è finito anche Andrea Astore Appena 23enne ma già pregiudicato Della provincia di Campobasso Trovato in possesso di 540 grammi di marijuana Un bilancino elettronico Materiale per il confezionamento delle dosi E 410 euro in contanti I vigili del fuoco sono dovuti intervenire In via Fontana Vecchia a Campobasso Per transennare una palazzina popolare A causa della caduta di calcinacci Inquilini infuriati raccontano di anni di indifferenza istituzionale Creare le condizioni minime di uno Stato sociale Concorrere a garantire al maggior numero di cittadini possibile Un fondamentale diritto sociale Qual è quello all'abitazione Contribuire a che la vita di ogni persona Rifletta ogni giorno e sotto ogni aspetto L'immagine universale della dignità umana Sono compiti cui lo Stato non può abdicare in nessun caso Questo esplica una sentenza della Corte Costituzionale Ma potremmo le incarne molte altre Fino alle citazioni in diritto internazionale La casa è dunque un diritto Un dovere pagarla e mantenerla Qui a Fontana Vecchia a Campobasso Esiste il dovere, non il diritto Eccole le palazzine popolari Che questa mattina sono state nuovamente transennate Il rischio caduta calcinacci è altissimo Chiunque potrebbe esserne travolto da un momento all'altro Dunque oggi un nuovo intervento dei vigili del fuoco Per tentare di prevenire l'irreparabile Ma la situazione è drammatica da anni E da anni nessuno se ne occupa Cosa vi rispondono quando denunciate? Quando rispondono? Beh fate che non rispondano E qual è il problema? No, non abbiamo visto nessuno Se fosse vero il contrario Non avremmo dovuto girare queste immagini Né certamente avremmo dovuto ascoltare Lo sfogo di un inquilino Che nonostante paghi regolarmente Fitto e condominio come molti Racconta che questa fetta di città Ad un passo dai palazzi che contano È costretta ad un tale degrado E ad una tale indifferenza Da parte delle istituzioni Che sembra piuttosto il set di un film Girato in qualche lontana periferia del paese Invece siamo a Campobasso A pochi metri da via Roma Piazza Vittorio Emanuele Via L'Elena Siamo in un posto dove chi vi abita Lavora per sopravvivere alla durezza dei tempi E lo fa con dignità Chiede alle autorità Che la sicurezza di queste palazzine In procinto Di ridursi in frantumi Perché marce Sia accertata Chiede che queste cantine Siano ripulite e liberate dall'acqua Chiede che queste pareti esterne Siano riparate Chiede che negli appartamenti Non ci piova più I propri palazzi sono stati fatti a regola d'arte Il piazzale è il minimo Ma è palazzo Avete visto voi i pilastri qua L'altro poco cato Rimangiamo sotto Poi da chi andiamo? Veniamo da voi in televisione? E non facciamo in tempo Se stiamo sotto Questo è il racconto di Antonio A metà fra disperazione e rassegnazione Lui spera di andare via da questo posto Crede che nella vita ci sia tempo per tutto Anche per avere una rivincita sulla sfortuna Non crede però Che qualcuno in poltrona Dopo la sua denuncia Abbia un sussulto di rabbia Per aver permesso A decine di famiglie Di abitare in queste condizioni E si metta dunque al lavoro Per trovare soluzioni Capaci di garantire Quello che sancisce la Costituzione La dichiarazione universale Di diritti dell'uomo La convenzione internazionale Sui diritti economici, sociali e culturali Il 2016 chiude in attivo Per quanto riguarda il tessuto produttivo molisano Con 390 imprese in più rispetto al 2015 E una crescita pari a più 1,11% È il risultato migliore degli ultimi sei anni Lo rende noto Union Camere Molise A determinare il trend positivo L'aumento delle iscrizioni E il rallentamento delle chiusure Il sistema imprenditoriale a dicembre 2016 Conta 35.306 aziende Una su 10 guidata da giovani Di meno di 35 anni E proprio agli under 35 Si deve il bilancio positivo 2016 570 alle imprese giovani Cioè più 14,7% Rispetto al 2015 Bene il settore agricolo Circa un terzo delle imprese registrate Turismo e servizi alle imprese e alle persone Ma i settori tradizionali Continuano a segnare un calo Per le costruzioni L'anno si chiude con una riduzione complessiva Di 37 attività Meno 0,9% Male anche il commercio al dettaglio Dopo la marcia dei 5.000 Prosegue la mobilitazione Dei cittadini a Venafro Le mamme per la salute Raffaele Siano Hanno organizzato un incontro Per studiare Iniziative da mettere in cantiere Per dire basta All'inquinamento Sulla piana di Venafro Nella sala Donorione Le mamme per la salute A cui è stato recentemente assegnato Il premio Civissanni E Raffaele Siano Promotore della marcia dei 5.000 Difesa della salubrità dell'aria Sulla piana di Venafro Hanno organizzato un incontro Interdetto alla politica Per valutare le iniziative Da intraprendere contro l'inquinamento Nel corso della riunione Punto per punto Sono stati sviscerati gli argomenti Al centro della raccolta firme In corso Dallo scorso 14 gennaio E che sta avendo un riscontro Senza precedenti Allora la raccolta firme A buon punto Sta riscuotendo un buon successo D'altronde il problema È sentito da tutti E i quattro punti Sono l'aggiornamento Del registro dei tumori Il ripristo Della centralina ARPA Quella che in qualche modo È stata dismessa dalla regione E l'adeguamento Al rilevamento Delle polvere sottili La limitazione Del traffico pesante Su via Colonia Giulia E il risultato Dell'analisi Dei due camion Fermati a fine 2016 Con questi quattro punti Noi intendiamo Iniziare a fare Un percorso Per cercare Di ripristinare Un po' Quello che è L'impatto ambientale Quello che è Il problema territoriale Che Non lo stiamo scoprendo oggi Ma è un problema Molto Molto Ma molto serio Le richieste inserite Nella petizione Prevedono una scadenza A 30 giorni E saranno indirizzate Al governatore Paolo Di Laura Frattura Agli enti E agli assessori competenti Nonché ai rappresentanti Del territorio In regione Chiara la richiesta Dei cittadini Alle istituzioni La politica Chiediamo Che faccia il suo intervento Un intervento Forte Un intervento Fatto di cose serie Ma soprattutto Di atti concreti Perché da alcune notizie Che noi abbiamo Diciamo che la politica Ha fatto un po' Un po' Dei passi Un po' Improvvisati E per questo che oggi Ci ritroviamo A combattere Su tutti questi fronti Rilanciare la destra storica Questo l'obiettivo Di Giuseppe Scopelliti E Francesco Storace Ieri a Campobasso L'Assemblea regionale Di azione nazionale E la destra L'obiettivo immediato È ridare fiato Alla destra storica Unendo azione nazionale Con la destra Il 18 ed il 19 febbraio Giuseppe Scopelliti D.A.N. Che vede tra i suoi fondatori Anche l'ex ministro E sindaco di Roma Alemanno E Francesco Storace Daranno vita All'ambizioso progetto Per riaggregare Un mondo Che è quello Della destra storica Di alleanza nazionale Per me questo rappresenta Un primo passaggio Perché l'obiettivo più grande È quello di riunire Tutta la destra italiana In modo da Intentare di Realizzare un progetto Che era quello Di alleanza nazionale È stata un'esperienza Straordinariamente bella Di governo Di una classe Che in regione Sono coordinati Da Carlo Perrella E Giovan Carmine Mancini L'ex governatore Della Calabria Spiega anche Qual è l'obiettivo Del polo sovranista Una destra centro Dice Scopelliti Capace di guidare Il paese Meglio con il maggioritario Spiega Perché il proporzionale Favorisce gli inciuci Il rischio Di arrivare al proporzionale Induce proprio A questo tipo Di tentazioni Se invece Preverrà la logica Di un qualcosa Che assomiglia Molto di più A quello che è il maggioritario È chiaro Che sarà ancora Più difficile Ci sono forze Centriste Che magari tentano Anche all'interno Di Forza Italia È inutile negarlo Che magari spingono A realizzare Dopo magari le elezioni Una coalizione Larga Ampia Che possa governare Il paese Noi proprio per questo motivo Abbiamo fatto una scelta Molto chiara Quella di aderire A questo polo sovranista Insieme a D'Alega Fratelli d'Italia Quella è l'esperienza Di Taffaele Fitto E di altre formazioni minori Proprio per cercare Di costruire Nella destra centro Diciamo così Una grande forza In grado di governare Il paese E quindi Rivolgendoci Gli italiani Con i nostri progetti E con gli obiettivi Che ci siamo prefissati Uno degli argomenti Al centro dell'incontro Di ieri a Palazzo San Giorgio È stata senza dubbio La legge elettorale E conseguentemente Il ritorno alle urne La gente Deve poter votare L'opinione di Scopelliti Le elezioni Sono necessarie Dopo una legge elettorale Che consente Di andare al voto E che per noi Deve essere Deve garantire La stabilità Perché questo È il vero grande obiettivo Che deve porsi Una classe dirigente Che ha il compito Oggi di legiferare Giugno può essere Una tappa Una data Diciamo così Utile Per far questo Perché è dal 2013 Anzi Anche prima Che questo paese Dal 2011 È governato Da gente Che non è stata mandata Per governare Che non è stata eletta Per governare il paese E questo è sicuramente Uno schiaffo A quello che noi Diteniamo importante Che rispecchia Il tema della sovranità popolare Da gente Deve poter votare Il cittadino elettore E individuare le persone Che domani La rappresenteranno Non si può votare Per una coalizione E poi trovarci Con un governo diverso Spostiamoci adesso A San Giuliano Di Puglia Dove si è tenuto Il concorso Denominato I colori Della vita Un'iniziativa Cresciuta negli anni Diventata Un punto di riferimento A livello nazionale Centinaia di scuole Di ogni regione Hanno partecipato Sono state premiate Condividendo i valori Alla base Della gara Di creatività Il concorso I colori della vita È giunto Alla dodicesima edizione Nato per fare memoria Dei 27 bambini E della maestra Morti nel crollo Della scuola Iovine Di San Giuliano Di Puglia Si è consolidato Come un'esperienza Di confronto Tra le realtà Di ogni parte D'Italia Per affrontare I temi Della sicurezza Dell'integrazione E della cultura In un momento Così delicato A livello internazionale Motivo ispiratore Di quest'anno È quello Di andare Oltre i muri Contro ogni limite E barriera In un momento In cui Si tendono A costruire i muri A non accettare A avere timore Del diverso La scuola deve educare Formare All'accoglienza E alla diversità Perché una scuola Che abbia un valore Deve innanzitutto Prima ancora Di dare Saperi E competenze Educare All'accoglienza All'accettazione Del diverso Al rispetto Delle idee altrui Noi vogliamo formare I ragazzi di domani Pronti al dialogo Al confronto All'accettazione Delle idee altrui Questo non significa Non affermare Le proprie idee Ma anzi Rafforzarle All'incontro Di presentazione Sono intervenuti I rappresentanti Della commissione Del concorso I docenti Clementina Simone Luigi Pizzuto E padre Enzo Ronzitti Quattro le sezioni Elaborato Grafico artistico Poesia Elaborato Multimediale Arrangiamento Musicale Saranno premiate Le prime tre opere Per ogni settore E verranno assegnati Due premi speciali Romeo Iurescia Per un progetto Che si distinguerà In modo originale E approfondito Rispetto al tema Proposto E Carmela Ciniglio Destinata a una scuola Che ha promosso Nel corso degli anni Uno scambio culturale Incentrato Su un'azione didattica Tesa a consolidare Il valore Della memoria Iscrizioni aperte Per ogni ordine Di scuola Lavori da inviare Entro il prossimo 31 marzo Posticipati Per il maltempo Si sono poi svolti Festeggiamenti In onore Di Sant'Antonio Abate A Campobasso Nell'omonimo quartiere La festività di Sant'Antonio Abate Per Campobasso E per il quartiere Omonimo Ha un significato Particolare Religioso Ma anche di tradizione Una ricorrenza antica Un tempo di forte Valenza simbolica Per i contadini Per chi aveva gli animali E si affidava al santo E alla sua protezione A causa del maltempo E festeggiamenti E le celebrazioni religiose Quest'anno sono state posticipate Al primo sabato di febbraio Oggi Al mattino La Santa Messa Con la benedizione Del pane e del fuoco Il falò Quindi anche la benedizione Degli animali Dopo la messa Nell'antica chiesa In diversi Come ogni anno Hanno portato Cani e gatti Animali da compagnia Ma anche poni O cavalli Iniziativa organizzata Dalla parrocchia Dei Santi Angelo e Mercurio E' una festa Che vogliamo condividere Con la gente Con la città Con i ragazzi Con i ragazzi delle scuole Stamattina ci sono state Tante classi a rappresentare Le scuole Dalle scuole superiori E colguano L'occasione per ringraziare L'istituto tecnico commerciale Pilla Leopoldo Pilla La dottoressa Gianfagna E la scuola media Elementare di Via Roma Il preside Grassi E la scuola dell'infanzia Di Via Jezza Per noi rappresenta Tramandare le tradizioni Alle nuove generazioni Quale è stata La vita Che poi scandiva Durante l'anno Le festività Maggiormente Coinvolgendo Da questa parte Prima era quasi Tutta campagna Quindi praticamente Comunque era una festa Tradizionale Medi contadini Era importantissimo E infatti Come avete visto C'è stata la benedizione Degli animali Un grazie dal profondo Del cuore Alla comunità Rom Perché sono tutti Carissimi amici Sempre presenti Con i loro cavalli Quest'anno avevano Anche un asinello Ci sono i ragazzi Scout Della Gesci Gruppo CB5 Che prepareranno La parte gastronomica Prepareranno I cavatelli La lessata di fafe Prepareranno La salsiccia Nel pomeriggio La processione Con la statua Di Sant'Antonio Abate Lungo le strade Del quartiere Dalle 17.30 A seguire la messa E dalle 20 Lo spettacolo musicale Intriso di tradizione Ricordi Intitolato in dialetto Volessa ritorna A Sant'Antuone Con le canzoni Campobassane Le maitunate Di Nicola Mastropaolo Con Antonio Mandato E la partecipazione Di Riccardo Izzo Alessandro Serino E Giuliano Civetta Bene Ed ora Diamo invece Uno sguardo Alle previsioni Del tempo Queste le previsioni Per sabato 4 febbraio Si intensifica Un flusso Di correnti umide Sud occidentali Che determina Molte nubi Sui settori orientali Del Molise Nonché piogge Per buona parte Della giornata Nubi in transito Sui restanti settori Queste le temperature Campobasso 7-10 Isernia 8-14 Termori 13-15 Venafro 10-15 C'è lo sport Ci vediamo tra un istante E allora andiamo subito sulla serie D Vediamo quali sono gli appuntamenti in programma per la 22esima giornata Campobasso Castelfidardo Matelica Civitanovese Monticelli San Marino Agnonese San Maurese Pineto Iesina Re Canatese Vastese Romagna Centro Alfonsine Vispesaro San Nicolò Riposa La Fermana Dunque impegni Ci sarà la difesa Ci sarà la difesa a tre che Silva conosce bene Avendola utilizzata anche in serie B Il resto lo deciderà in queste ore Tenendo conto soprattutto dei giocatori che avrà a disposizione Fioretti ha abbandonato la nave E almeno per il momento non vuole saperne di ritornare Vitelli ha un debito di tre giornate da scontare con la giustizia sportiva Dunque per Silva Non sarà facile mettere assieme un reparto offensivo che possa tenere botta al Castelfidardo Dell'ex Cappellacci Ultimo in classifica e con la necessità di fare punti a tutti i costi In mediana le certezze si chiamano Leo Grazioso e Albino Fazio In attacco il giovane Martiniello classe 96 di cui si dice un gran bene Fungerà da punta centrale con Iaboni che pare sia già entrato in sintonia con Silva Alle spalle del centroavanti 3-5-2 il modulo del campo basso Nuovo corso che in sette giorni si gioca mezza salvezza In attesa di rinforzi per di vicino era fatta Ma il fantasista che a settembre ha rescisso con il Melfi non è tesserabile Mentre è un giocatore rosso-blu il centrale esterno Daniele Frabotta Con presenze nei pro e anche in B Silva proporrà un 11 abbottonato ma disposto a vendere cara la pelle Ho visto l'atteggiamento giusto ha detto il trainer durante la conferenza stampa di presentazione Campobasso Castelfidardo sarà diretta da Jacopo Pascariello di Lecce con assistenti Gianluca Roce di Foggia e Simone Petracca di Lecce In casa anche l'Olimpio agnonese contro la San Maurese in forma smagliante La prima di tre gare al Civitelle che potrebbero cambiare il corso della stagione e rilanciare le ambizioni playoff dei Granata Senza rullo quasi certo il suo forfè del grosso punterà in difesa sulla coppia Cassese-Litterio con Demoleon a destra e Guerra a sinistra Non ci sarà il play di Lollo fermato per un turno dal giudice sportivo in cabina di regia Peic con D'Ambrosio e Ricamato interni Guida sarà il trequartista Ragazzu e Margarita Gliattaccanti Agnone-San Maurese sarà arbitrata da Domenico De Girolamo di Avellino con assistenti Crescenzo, Mazzuoccolo e Alfredo De Falco della sezione di Nola E a proposito di agnonese sentiamo quali sono le sensazioni del responsabile dell'area tecnica Mauro Marinelli a poche ore dal fischio di inizio del match di domani Le sensazioni della vigilia del responsabile dell'area tecnica dell'Olimpio agnonese Mauro Marinelli al portale ecoaltomolise.net Avrei messo che affrontiamo la squadra che è la seconda migliore di pese del campionato Una squadra che sta facendo un girone strepitoso, soprattutto un girone di torno strepitoso Squadra che perde poco, squadra che ha la forza di avere due esterni davvero molto bravi Che negli spazi possono essere pericolosi, hanno una punta centrale molto alta Però noi purtroppo nonostante qualche problemino che abbiamo ancora con Rullo Dobbiamo cercare assolutamente di tornare alla vittoria perché nelle ultime due partite oggi Se fossero state sfruttate al meglio alcune situazioni, forse oggi avremo 33 punti E saremo addirittura quattro in classifica con una gara in meno Invece questo è un campionato molto difficile perché tutte le squadre, anche quelle che si pensava potessero mollare Invece hanno fatto una campagna acquisti e continuano ad acquistare Io parlo del Castelfidardo, così come parlo della Canatese Così diciamo così che solo la Civitanovese forse mi sembra la squadra che abbia più problemi in questo momento Dunque io sostengo e ribadisco quello che ha affermato in una recente intervista il direttore sportivo Abbiamo bisogno assolutamente di tutta la rosa perché il campionato non è finito E la salvezza sicuramente ancora non è stata conseguita Dopo se in queste tre partite siamo bravi a fare, non dico l'un plan, però a fare 6-7 punti Chiaramente a quel punto potremo rientrare in gioco anche per i play-off Però oggi come oggi dobbiamo stare attenti e guardarci soprattutto alle spalle 28 punti all'attivo, manca poco per la salvezza Marinelli indica qual è la quota da raggiungere il prima possibile Qualcuno dice 34-35, io sostengo che almeno 37 punti ci vogliono Perché è un campionato dove, ripeto, sono tutte squadre che nessuna vuole mollare Dunque diciamo che 36 punti ma certamente a 37 punti c'è la salvezza Con la squadra si allena Basilio Antorelli, un talento assoluto, classe 2000 di proprietà della Roma Il club giallorosso lo ha girato in prestito all'Agnone Deve ritrovare la serenità e il commento di Marinelli sul talento Granata Intanto si sono già affiondati Sassuolo e Fiorentino Ma guardi, allora, Basilio Antonelli è un ragazzo e un talento Un talento che merita sicuramente di avere le categorie palcoscenici Neanche di serie B e di serie C Palcoscenici addirittura di serie A Perché la sua forza fisica, la sua tecnica è davvero eccellente Il ragazzo ora ha bisogno soprattutto di tornare a voler giocare con piacere, con serenità Divertendosi, cosa che forse nell'ultimo periodo a Roma non accadeva Una volta che lui avrà ritrovato questa serenità, questa felicità nel giocare Sicuramente è pronto per fare anche il debutto in serie D Domani all'Ancellotta di Isernia La finalissima di Coppa Italia tra il Vasto Girardi e il Macchia di Isernia Alle 14.30 il fischio di inizio In campo le due migliori squadre del torneo di eccellenza I due allenatori potranno contare fra l'altro sulle formazioni al completo E vediamo invece quali sono i due recuperi sempre nel campionato di eccellenza Olimpia Riccia Venafro, Spinete Isernia Promozione, vediamo quali in questo caso i recuperi in programma Baranello, Rocca Sicura, Biccari Santeliana, Boisielsi Molise, Cerce Maggiore Roseto, Maronea Boiano, Vulcania Real San Martino Lasciamo il calcio, andiamo al basket 19esima giornata, serie B, Girone D Bisceglie, Ortona, Campli, Matera, Giulianova, Montenoni Il Globo, Isernia, Rimini, Montegranaro, Dinamic Venafro, Perugia, Taranto, San Severo, Porto, Sant'Elpidio, Senigallia, Pescara E tutto termina questa edizione del nostro telegiornale Grazie come sempre per averci seguito a voi tutti Arrivederci